Tu sai che le sonde Voyager non dovevano durare così tanto? O sai anche cosa vogliono dire tutte queste immagini di questo oggetto? E che cosa c'entra con le sonde Voyager? Beh, te lo spiego io ora in questo video. Prima però, per chi non mi conoscesse, ciao, io sono Luca e sono un YouTuber e racconto un'astronomia facile e veloce. Quindi, se vuoi sapere più di questo bellissimo mondo, beh, ti consiglio di iscriverti al canale. Iniziamo col capire come mai la NASA ha deciso di far partire le sonde Voyager. Beh, iniziamo col dire che le sonde Voyager sono state lanciate nell'estate del 1977, ovviamente in mesi diversi, al Cape Canaveral in Florida. E dovevano condurre degli studi su Giove e Saturno e per farlo più accuratamente dovevano mandare delle sonde e in particolare dovevano studiare gli anelli di Saturno e alcune delle lune più grandi di Giove e Saturno. Le due sonde erano state progettate per durare 5 anni, ma dopo il grande successo con i due pianeti gassosi, beh, gli ingegneri hanno deciso di andare a osservare anche Plutone e Nettuno e poi ancora oltre, ma quali componenti sono presenti nelle due sonde? Beh, per prima cosa abbiamo un sistema di comunicazioni che può ricevere o mandare informazioni anche oltre il sistema solare ed è composto da un'antenne e una parabola e la parabola ha un diametro di 3,7 metri. E la cosa più affascinante è che quando le Voyager per qualsiasi motivo non possono inviare i dati alla Terra, beh, se li memorizzano per poi mandarli in un secondo momento. E ad oggi le informazioni ci arrivano dopo circa un giorno. Ovviamente questo è dovuto dalla grande distanza tra la Terra e le Voyager. Successivamente ogni sonda Voyager ha un computer e contiene una memoria, ovviamente RAM, da 69 KB. Molto poco, sì, ma tanto per quello che deve fare è abbastanza. E contiene dei programmi per decodificare dei programmi, controlla le macchine fotografiche, fa ogni tot una correzione delle routine di puntamento dell'antenna e rileva se ci sono degli errori. E ora arriviamo al pezzo forte, che è il Voyager Cosen Records. E per prima cosa vi parlerò di queste immagini qui, perché hanno un loro scopo ben preciso e non sono messe lì a caso. Iniziamo con questa prima immagine che mi indica come usare questo disco. Questa parte qui dell'immagine mi indica come riprodurre dall'inizio il disco. Intorno all'oggetto vediamo dei segni. E questi segni sono la lingua dell'aritmetica binaria. E mi indica il tempo di rotazione del disco corretta che è di 3,6 secondi ed è espresso in unità di 0,70 miliardesimi di secondo, cioè meno di un nanosecondo. Queste immagini qui io l'utilizzo di far capire come devono essere ricostruite le immagini dai segnali registrati. Il disegno che è subito sotto all'immagine precedente, ovvero questo, ci indica come si debbano segnare le linee in maniera verticale. Nell'immagine in basso a sinistra ci indica la posizione esatta del sistema solare. Un po' come Google Maps ma invece di usare i satelliti usa 14 pulsar e indica anche il preciso periodo esatto. Questo disco è un disco fonografico di rame traccato in oro da 12 pollici e ci sono delle immagini e dei suoni tutti selezionati per rappresentare la diversità della vita e la cultura sulla Terra. Ma dove si trovano le due sonde Voyager ad oggi? La sonda Voyager 2 si trovano a distanza di 135 unità astronomiche, ovvero circa 20 miliardi di chilometri dal Sole. Invece la sonda Voyager 1 si trovano a distanza di 162 unità astronomiche, ovvero circa 24 miliardi di chilometri, omi sempre, dal Sole. Tutti questi dati delle distanze sono datate il 24 febbraio 2024. Ma come fanno le sonde Voyager ad avere energia? Perché l'energia del Sole, essendo così lontano, non può arrivare. Beh, l'hanno risolto con il generatore termoelettrico a isotopo, che è un dispositivo caricato per la maggior parte da plutonio 238, che è un isotopo radioattivo che, grazie al suo lungo decadimento, rilascia energia e calore. Ma fino a quanto dureranno le due sonde? Beh, di per cito non si sa, alcuni con 25, altri con 26. Di per sé non dipende da nessuno alla loro fine. Infatti, la loro fine è destinata a quando finiranno le energie banalmente. Insomma, speriamo che dureranno il più possibile, anche perché sono le uniche due sonde che sono riuscite ad andare oltre il sistema solare. E voi, cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Ebbene sì, il video purtroppo è già finito, ma noi ci vedremo sempre qui su questo canale con un nuovissimo video. Ciao!